Ciao Per la serie numero 6 in 1 Bianca Bastianini, in 2 Slara Baldan, in 3 Carlotta Martinuzzi, in 4 Martina Buttazzoni, in 5 Christian Reeves, in 6 Martina Piccolo, in 7 Giada Peroni e in 8 Silvia Battistini Questa è la sesta serie ai blocchi di partenza, dopodiché saranno 9 le serie previste dei 50 stili libero maschili Intanto, per quanto riguarda la serie numero 7, la vittoria va a Valentina Darif